Bisogna capire se è qualcosa di concreto e allora vedere cosa si vuole fare con il Ministero del Mezzogiorno, chi viene messo alla guida, qual è l'azione o è semplicemente come talvolta devo dire, sempre più spesso ci ha abituato il Presidente del Consiglio Renzi, sono quelle operazioni mediatico-propagandistiche che lui lancia ogni tanto per occultare le politiche discriminatorie che fa nei confronti del Mezzogiorno, noi questo giochetto l'abbiamo capito, sinora mi sembra un'operazione che non porta a nessuna parte, perché poi il Ministero del Mezzogiorno può essere utile se ha una strategia, se mette in campo politiche completamente diverse rispetto a quelle che Renzi fino a oggi sta facendo, lui dovrebbe contraddire se stesso, vedere chi lo guida, poi le contraddizioni anche nel linguaggio di Renzi si vedono, io lo apprezzavo l'altro giorno quando lui diceva a proposito della Libia dobbiamo passare dall'indifferenza, non possiamo passare dall'indifferenza all'isteria, cioè era quasi un'ammissione come dire che il governo sinora era stato indifferente nei confronti a quello che accadeva in Libia e che adesso era diventato isterico e non vorrei che col Ministero del Mezzogiorno sembra un po' lo stesso linguaggio, cioè che tu sei indifferente, discriminatorio, vai a colpire sicuramente i territori e poi all'improvviso te ne esci col Ministero del Mezzogiorno, vediamo che cos'è, finora il nulla. Grazie. Grazie.